buonasera a tutti e tutte siamo con lucio brotto di etifor adesso spiegheremo ovviamente cos'è etifor intanto ciao lucio ciao grazie mille grazie a chi è qui presente chi ci ascolta bene e io introduco un po questa serata questa serata si inserisce in all'interno di un progetto che stiamo seguendo da tre anni come Sherwood Festival che si chiama Sherwood Change for Climate Justice è un progetto ampio complesso che parte ovviamente da quelle che sono state le lotte dei movimenti climatici degli ultimi anni e aveva come obiettivo e ha tuttora come obiettivo quello di rendere il festival plastic free ma non solo quello di costruire momenti di discussione momenti di approfondimento sul tema climatico che come sappiamo e come vediamo ogni giorno basti pensare a quello che sta succedendo da un anno e mezzo con una pandemia che per la prima volta nella storia è portata da un fattore ambientale bene quindi Sherwood Change for Climate Justice e tante cose e approfondimento e pratica quindi ridurre anzi mettere a portare a zero tutto quello che riguarda la plastica ma è anche un progetto che si chiama wow e poi entreremo con lucio nel merito di questa cosa intanto che cos'è etifor beh etifor è essenzialmente è fatto di persone di una trentina di persone che hanno una visione comune del mondo che è quella dove l'uomo insieme con la natura ritrova il proprio equilibrio e per farlo ecco che valorizziamo le aree naturali quindi aiutiamo le persone le imprese le pubbliche amministrazioni a rendersi conto di quello che è il valore della natura e quando capisci qual è il valore non parlo solo economico ma parlo anche proprio esistenziale sociale ecco che comincia a rispettarlo quindi siamo un'azienda privata un po particolare siamo partecipati dall'università di Padova quindi ecco che la scienza il primo valore fondante del di questa impresa e nasce tra l'altro come spin off dell'università di Padova quindi all'interno comunque di di una visione una visione un po contraddittoria poi entreremo da parte dell'università soprattutto entreremo nel merito di questa questione e come dicevamo etifor noi l'abbiamo incrociata per un progetto inserito all'interno della campagna sharewood change for climate justice e il progetto si chiama wow spiegacelo meglio certo allora lo sharewood festival chiaramente è molto conosciuto da noi che abbiamo la sede nella stessa città dove nasce no e ci è piaciuto tantissimo il titolo perché la climate justice fa riflettere sul fatto che non è possibile lottare contro la crisi climatica se non c'è una giustizia sociale economica e ovviamente una lotta alla povertà e quando abbiamo saputo di questa iniziativa abbiamo detto beh sharewood è il nome ci ricorda una foresta quindi perché non andare a costruire delle foreste che ci aiutano ad azzerare gli impatti chiaramente non è solo questo lo scopo e ecco che lì abbiamo un programma dedicato che si chiama wow nature dove tutti i cittadini persone imprese possono prendersi cura di aree naturali proteggere le foreste esistenti o creare di nuove ma non basta quello perché l'albero è l'icona alla lotta alla crisi climatica ma non è l'unica soluzione chiaramente prima di arrivare a prendersi cura di alberi a piantare di nuovi è importante ridurre i propri impatti ambientali cosa che la campagna sharewood change for climate justice ha messo come primo pilastro e soprattutto ha messo come primo pilastro dentro però una consapevolezza che non fosse quella della responsabilità individuale il nesso il problema principale anzi a la sensibilizzazione individuale è una pratica poi magari su questo mi piacerebbe interagire è una pratica importante perché comunque poi mettendo insieme i comportamenti individuali poi si raggiunge o si possono raggiungere meglio gli obiettivi però siamo partiti dal presupposto che il problema della crisi ecologica fosse portato in realtà non dai comportamenti ma da un modello di sviluppo quindi cercando anche un po di rompere questa questa narrazione che vedeva e faceva ricadere troppo sugli individui il peso di una crisi che invece è una crisi assolutamente capitalista sì sì certo sicuramente ci sono delle radici fondanti poi è vero che i singoli come anche chi organizza eventi può fare la differenza e questa è la base di discussione per lo sharewood festival siamo andati a calcolare gli impatti del festival ora gli impatti del festival sono all'incirca 100 tonnellate di anidride carbonica che è l'unità di misura del del cambiamento climatico cosa significa un'auto in italia in media emette due tonnellate quindi è come se ci fossero 50 auto che girano sempre ma da dove arrivano 85 per cento di queste quindi 85 tonnellate su queste 100 arrivano dagli spettatori da chi arriva il festival quindi qualcosa che il sharewood festival può controllare fino a un certo punto chiaro può eliminare la plastica può fare eliminare i generatori a gasolio usare energia rinnovabile quant'altro ma non eliminerà quell 85 ed è un problema comune per tutti gli eventi ok il festival sharewood che nella sua normalità pre covid ha circa 150 mila presenze no e quest'anno probabilmente ci arriveremo più o meno a una cifra simile almeno lo speriamo e continua scusami lucio ecco quindi l'importanza è stata innanzitutto con il progetto quello di identificare gli impatti e andare a ridurre a livello di organizzazione del festival quindi via i generatori quanto possibile via la plastica massimo riciclo energia rinnovabile ma poi ecco che quest'anno abbiamo introdotto una novità dove ogni persona che entra al festival può con un euro prendersi cura di quegli impatti che non poteva evitare chiaro il festival bus biciclette favorisce tutto il movimento la trasporto diciamo la mobilità sostenibile però non può evitare di chi arriva qui da distante e vuole vedersi un concerto ecco che quelle persone all'entrata con un euro di donazione possono azzerare aiutarci a costruire nuove foreste la foresta di sharewood per catturare la co2 residua e rendere il festival insieme con gli organizzatori climate positive ovvero un festival che cattura più co2 di quella che emette ovvero un festival che lascia il territorio padova veneto italia mondo meglio di come l'ha trovato e speriamo che questo avvenga per per la questione dell'impatto ambientale anche per l'impatto culturale e sociale che come dicevi tu sono temi che che si intrecciano mi faceva riflettere prima la cosa che dicevi l'albero come il simbolo il simbolo storico poi della dell'ecologismo delle e anche delle lotte ecologiche la questione della deforestazione quindi e della riforestazione che sarebbe insomma un obiettivo davvero davvero interessante è un tema davvero spinoso non non ci riusciamo a liberare di questa cosa abbiamo visto il brasile che bruciava l'australia adesso il il canada ed è un gatto che si morde la coda un cane che si morde la coda non voglio essere specista però è davvero uno dei simboli di questo di questo cambiamento climatico che però è prodotto non dall'attività umana ma dall'attività produttiva questo è una cosa che bisogna saper dire e soprattutto bisogna saper divulgare ma allora sicuramente la crisi climatica ha due aspetti fondamentali la prima è che ci dice chiaramente che da quando abbiamo avuto la rivoluzione industriale quindi abbiamo cominciato a consumare combustibili fossili non rinnovabili le emissioni sono date alle stelle quindi dobbiamo ridurre l'uso di risorse non rinnovabili il secondo aspetto è che purtroppo si manifesta con eventi estremi in tutto il mondo vediamo incendi prolungati vediamo tempeste come quella di vaia qui nelle dolomiti nelle alpi che distruggono in cinque minuti 70.000 campi da calcio di foresta sono proprio manifestazioni della crisi climatica e se volessimo dire due azioni inderogabili che ognuno di noi può fare per lottare contro la crisi climatica ce ne sono solamente due la prima che è vera presentata stasera perché in parallelo ci sono i climate riders è come ci muoviamo usare meno possibile le automobili è la soluzione che non è solo il carburante che usi ma è lo spazio per i parcheggi l'acciaio per le infrastrutture le strade e tutto quello che ci va dietro secondo aspetto importante è quello che mangiamo se abbiamo se riusciamo a ridurre il quantitativo di carne nelle nostre diete abbiamo un impatto che è 50 80 volte inferiore in termini di distruzione di foreste perché quelle foreste brasiliane che vengono distrutte prendono due pezzi di legno gli unici due che conoscono perché non conosciamo le altre specie da quanto difficili sono ci danno fuoco a tutto il resto del bosco e ci mettono le vacche i manzi per fare la carne per fare poi soia e quant'altro quindi queste due scelte sono quelle che se vogliamo essere coerenti non ipocriti dobbiamo in qualche maniera considerare e queste sono ovviamente scelte individuali che poi dentro una consapevolezza collettiva possono fare la differenza però è vero sulla questione ad esempio degli allevamenti noi l'altro giorno a venezia prima della mobilitazione contro il g20 e la finanza abbiamo fatto un dibattito un'assemblea all'interno della quale è intervenuta anche una ragazza dell'assemblea antispecista che ha portato il tema dell'antispecismo e come dire dibatteva proprio su questi temi su quanto la questione degli allevamenti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale sia impattante la domanda che ti faccio e questa quanto il comportamento individuale può incidere l'hai detto ma quanto poi dobbiamo essere bravi e conseguenti con queste scelte per andare poi a rompere un po gli schemi perché nel momento in cui io faccio l'esempio del veneto una fabbrica come la miteni è stata lasciata inquinare dalla politica è stata chiusa dai cittadini ma continua a fare danni e allora poi la il comportamento individuale conta poco conta nel momento in cui si lotta insieme beh certo è se costruiamo una base di persone che esigono mobilità ciclabile alternative la responsabile che prediligono prodotti che non alimentano deforestazione costruiamo anche una base poi politica di voto che sceglie delle persone che non basano la loro riscontro politico sul numero di chilometri di autostrade che creano è chiaro che lì si può arrivare dal basso si arriva all'alto e dall'alto poi si ritorna verso il basso si ritorna verso il basso e poi perché poi dopo l'altro problema dell'impatto è quello delle grandi infrastrutture ricordiamo che in pieno covid zaia trionfalmente inaugurava la pedemontana che è l'opera la grande opera con con più cubatura che c'è cubatura ovviamente per 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 territorio rispetto alla porzione di territorio che c'è in in questo paese che è una cosa davvero inquietante tra l'altro pagata con a debito con i soldi dei dei cittadini che un'altra cosa inquietante e continuiamo questa discussione che a mio avviso è molto interessante etifor si muove su su tre livelli spiegaci un po quali sono e spiegaci anche quelle che possono essere le prospettive come aiuta le persone nella consapevolezza nel raggiungere una consapevolezza rispetto alla crisi climatica in generale rispetto ai temi ambientali allora diciamo abbiamo tre valori sui quali nessuno all'interno di etifor discute tutti si trovano d'accordo che sono quelli che ci aiutano a risolvere i momenti difficili il primo è la scienza facciamo una decisione facciamolo su una base scientifica non solo sull'emozione ok non lo agiremo solo con il petto ma anche con la testa secondo ragionamento è l'innovazione cerchiamo visto che operiamo su 40 e passa paesi il mondo le migliori soluzioni sfruttiamo la globalizzazione per gli aspetti positivi no il terzo aspetto è la buona governance è una parola difficile ma significa come vengono prese le decisioni se poche persone poche realtà prendono decisioni sul come viene gestito la natura i fiumi le foreste le città non va bene come succede nei g20 dell'economia dell'ambiente deve la modalità tra la quale le decisioni vengono prese deve essere partecipata deve essere ascoltata questi sono i tre valori poi si ripercuotono sul come diamo aiuto alle persone allora ecco che abbiamo un'area che si occupa di dare aiuto a chi è proprietario di aree naturali può essere il singolo cittadino che ha un ettaro mezzo ettaro due ettari il governo che ha migliaia di ettari l'impresa abbiamo un'area che invece si occupa di farti spendere i soldi nella maniera più corretta si chiama l'area degli investimenti sostenibili quindi vuoi usare i tuoi soldini i tuoi risparmi in maniera corretta vuoi fare una donazione come indirizzarla al meglio sei un'impresa che vuoi cambiare il tuo modo di operare come investire al meglio nel rispetto della natura per ottenere per esempio obiettivi di tipo climatico il terzo livello invece quello del turismo responsabile sviluppo locale responsabile prendere coscienza e credo che questo sia è stata la rivoluzione col covid perché si è passati da un turismo internazionale mordi e fuggi al riscopro il parco dietro casa riscopro il film dietro casa sotto un certo aspetto ci ha insegnato molto diciamo ecco che lì abbiamo degli esperti che invece ci aiutano a valorizzare prodotti servizi la bellezza locale e tra l'altro proprio su questa cosa del turismo una quasi breaking news praticamente pochissimo pochissimi minuti fa c'è arrivata una notizia che è uscito il decreto per cui dal primo agosto non ci saranno più navi grandi navi a venezia superiori alle 25 mila tonnellate bene questa è una cosa importante però ci pone una questione oltre ovviamente noi siamo contenti perché le abbiamo cacciate noi le grandi navi dalla laguna noi ovviamente tutte le persone che si sono mobilitate a proposito di consapevolezza collettiva però ci pone un problema perché ci hanno sempre raccontato il fatto la storiella che le grandi navi portassero turismo ecco questa cosa qua ovviamente è un esempio probabilmente il più grande probabilmente in una delle città che è il simbolo del turismo come riusciamo a combattere questa cultura allora è indiscutibile che le grandi navi portino persone però la modalità di utilizzo di venezia di sfruttamento di venezia che ha la persona che arriva con la grande nave è mordi e fuggi arriva prende gli stessi prodotti in maniera rapida l'alternativa che anche noi etifor abbiamo contribuito a collaborare è la rete escursionistica veneta una rete di ciclovie passaggi pedonali e ipovie che attraversa tutta venezia sia dalla parte di palestrina quindi fronte mare sia dalla parte dell'entroterra un turismo lento che scopre il territorio e mentre lo scopre lo rispetta e notate bene che le persone che fanno queste tipologie di attività siccome danno valore al territorio in media una singola persona spende circa 100 euro al giorno molti di più di quello che spende la persona che scende si prende due gadget una maschera e rimonta in nave quindi il turismo mordi e fuggi e le grandi navi è il modello proprio del del turismo che vuole invece il capitalismo di rapina perché comunque abituato a catturare anche quel poco però che poi dopo produce valore ad esempio in altri contesti come la produzione delle navi la croceristica eccetera raccontaci qualche è molto interessante questo tema anche perché il veneto come tante altre come tante altre regioni in italia sono territori complessi e territori anche molto articolati raccontaci qualche esempio di turismo a basso impatto perché è una cosa interessante tra l'altro dopo volevo annunciare un progetto che abbiamo che stiamo iniziando con radio sherwood c'è qua luisa che è una delle protagoniste ma ne parliamo ne parliamo dopo allora il veneto allora noi siamo molto fieri di avere la sede originale di etifor in veneto perché girando per il mondo ci sono veramente pochissimi posti dove in un'ora sei in montagna in un'ora sei al mare in mezz'ora sei al lago in venti minuti sei in un fiume stupendo quindi il setting è perfetto c'è lavoro ci sono possibilità è perfetto e il veneto sappiate che è la regione più turistica d'italia 45 milioni di teste di persone che entrano quarta destinazione in europa ok subito dopo madrid barcellona cose di questo genere quindi enormi possibilità senza ombra di dubbio il turismo il ciclo turismo quindi mi riaggancio ai climate riders è senza ombra di dubbio perfetto perché abbiamo circa il 40 50 per cento di persone che scendono dall'austria olanda germania quella classicissima monoco venezia ma che adesso diventerà anche sulla strada pedemontana piuttosto che l'aleno del veneto piuttosto che con gli ugani e il ciclo turismo è il modo perfetto per scoprirlo perché essenzialmente la parte di pianura è molto piana ti vuoi cimentare qualcosa di più sali sulle dolomiti ed è un modo che scopri lentamente il territorio senza incrementare il problema cronico che abbiamo che è quello del pm 10 perché non dimentichiamoci che siamo in un contesto dove fortunatamente o fortunatamente ci abbiamo una u di montagne che ci rende il posto più inquinato d'europa perché l'aria non passa stasera ce n'è un po stasera ce n'è un po oltre quella u di montagne se poi tutta quella produzione industriale o comunque quella produzione che davvero davvero impattano quel paesaggio del capannone che che comunque un paesaggio difficile dal punto di vista dell'impatto ambientale oltre che dall'impatto dell'impatto sociale e il tema del turismo sostenibile è sicuramente una delle delle sfide di di questa fase una fase in cui lo dicevi bene il turismo non sappiamo che tipo di turismo ci può essere dopo dopo il covid è sicuramente una delle industrie più colpite tra l'altro anche una soprattutto da parte del per quel che riguarda gli albergatori e anche i ristoratori devo dire una delle più sostenute a livello mondiale e molto molto più ad esempio l'industria dello spettacolo ma questo questo apre un altro un'altra questione e quindi il tema del turismo è un tema importante ti faccio un esempio e mi riaggancio mi aggancio a quello che è una delle questioni che volevo affrontare con te stasera abbiamo le olimpiadi di cortina il governatore del veneto ha già destinato una parte dei fondi destinati tra l'altro allo spettacolo alla cultura e al turismo verso la ristrutturazione di quell'area che potrebbe diventare una delle cose probabilmente peggiori che questa regione abbia mai vissuto ecco questa è una domanda difficile allora è un tema difficile nel senso le olimpiadi per sé tecnicamente nessuno potrebbe moralmente obiettare ci piacciono ci troviamo facciamo sport insieme facciamo competizione va bene chiaro che se vengono calate rapidamente e soddisfatte rapidamente senza consultare il territorio diventa un problema come è stato torino 2006 ricordiamolo che è stato davvero esatto micidiale per per alcune valli soprattutto e soprattutto in un contesto come quello veneto dove la montagna è sostanzialmente abbandonata noi abbiamo molti colleghi che vengono dal trentino alto adige dove la montagna è vitale ci si prende cura ci stanno le infrastrutture basilari per far sì che la gente rimanga da noi invece è diventata la seconda casa costruisci vai non alimenti l'economia locale fuggi tanto più basata su un modello che la crisi climatica sta mettendo in fortissima discussione che è il modello basato squisitamente solo sci è chiaro che lo sci si fa se c'è neve ma se non ce n'è cosa fai ed ecco che adesso tantissimi comprensori devono porsi il grande punto di domanda dopo anni decenni di contributi pubblici quindi tasse che sono andati ad alimentare un sistema sciistico oggi si trovano a non avere la neve o ad avere dei costi elevatissimi per sostenerla e tra l'altro le ultime olimpie di invernale e invernali scusate o le penultime non ricordo quelle di soci in russia sono state gli ambientalisti internazionali le hanno denunciate proprio come uno dei più grandi scempi che la storia contemporanea abbia abbia conosciuto proprio per questo problema che che dicevi tu e questo tema ci traghetta verso una una questione un po più politica ma altrettanto difficile probabilmente però dirimente ci troviamo in una fase in cui il recovery found metterà in piedi probabilmente il più grande meccanismo di missione di liquidità che la storia del capitalismo abbia conosciuto la storia dell'immunità direi abbia conosciuto secondo te come è possibile destinare realmente queste risorse ovviamente una domanda scontata perché poi dopo queste risorse non si destinano da sole ci sono rapporti di forza però come quale sarebbe il modo più intelligente di destinare queste risorse per un modello di sviluppo realmente altro ma allora il recovery found hai ragione è ben superiore di parecchie volte il piano il famoso piano marshall ok quindi è senza ombi di dubbio la più grande operazione finanziaria che vedremo in europa nei prossimi negli ultimi cento anni come dicevo prima se dovessi dare delle indicazioni se dovessimo dare delle indicazioni io direi che andare verso una mobilità responsabile meno legata ai combustibili fossili andare verso un'economia circolare perché abbiamo la sfortuna di quei capannoni ma è una fortuna che possiamo creare economia circolare ok e questo secondo asse andare verso l'efficientamento energetico perché di fatto rispetto alla media europea abbiamo delle città che sono consumano per nulla ok credo che siano i tre assi principali ok leggendo il documento si riscontra non molto se basti pensare che l'unico fiume la risorsa idrica quella più importante quella messa più in crisi che è attenzionato dove verranno fatti investimenti il fiume po tutti gli altri che ci frega non ci sono nemmeno nel pnr ok c'è una parte minima per le foreste ok che è dedicata alle riforestazioni che la l'ultima delle priorità in italia perché in italia abbiamo circa un terzo della superficie dell'italia anzi di più quasi 35 per 100 è foresta è già foresta di cui la maggior parte è abbandonata e quindi prende fuoco e viene giù quelle frane e ci poniamo il problema di piantarne ancora che non sapremo probabilmente gestire ok quindi ecco che forse una maggiore attenzione su quel fronte sarebbe stato altresì importante e anche perché poi tra l'altro nel pnr che è ovviamente il piano italiano che gestirà una porzione di soldi del recovery found rispuntano le grandi opere e questa è veramente una una contraddizione tra l'altro rispuntano le grandi opere all'interno di di un discorso che viene viene narrato come sostenibile non si pensi all'alta velocità si pensi a ma le stesse autostrade quindi invece tu ci stai parlando di un altro tipo di un altro modello di mobilità che dovrebbe essere quello che è realmente poi dopo su cui realmente ci si investe come a tuo avviso è una questione culturale questa sì è più che culturale direi di giochi di potere nel senso che quando hai l'economia che è fortemente trainata da il settore automotive fai fatica a staccartene e quindi ecco che i fondi vanno a rialimentare quel meccanismo ora nel nel pnr c'è una piccola parte ora non mi ricordo ma è veramente irrisoria per la realizzazione di ciclovie basti pensare che il più del 50 per cento degli italiani vanno a lavorare a meno di 10 chilometri da casa e ci vanno in auto e ci vanno in auto non per una questione culturale non è che gli olandesi danesi abbiano un'attenzione culturale maggiore rispetto alla mobilità in bici ci vanno in auto per il semplice fatto che non ci sono ciclovie o ci ci sono ogni tre metri ti schianti su un paletto o quando arrivi una rotonda devi fare 10 chilometri a destra poi 10 chilometri a sinistra quindi realizzare le infrastrutture basilari per la mobilità sostenibile sarebbe quello veramente e invece se guardi sul pianera è pochissimo ok quindi è chiaro che paghiamo scontiamo il peso di un settore come quello automotive ma anche altri è che adesso poi si sta reinventando con l'elettrico perché l'elettrico sembra la panacea ma è semplicemente un fattore modaiolo da aggiungere dopo il SUV tanto che la maggior parte delle auto elettriche sono SUV che non ci capiscono a mazza come fai a mettere le macchine elettriche SUV se il concetto è che il problema principale è il chilometraggio che puoi fare farai la macchina piccola invece no ed è l'ennesimo meccanismo di marketing e promozione per promuovere le automobili perché poi gli studi di ciclo di vita del prodotto fatti in Germania mostrano che hai un efficientamento energetico del 5-6% perché l'energia da qualche parte la produci no quindi o fanno fotovoltaico o carbone e tra l'altro sulla sulla questione dell'energia si aprirà probabilmente una grande battaglia perché abbiamo visto anche come la cosiddetta energia sostenibile su cui poi dopo abbiamo visto come le big corporation ci hanno investito in questi ultimi tempi non è poi così sostenibile quindi probabilmente il problema la questione è proprio cambiare gli asset ma cambiare proprio il paradigma economico politico noi l'anno scorso a settembre abbiamo fatto un climate camp con cui è nato un percorso di attivismo politico uno spazio politico che si chiama rise up for climate justice e in uno dei dibattiti abbiamo parlato di come costruire un'economia politica della decrescita ecco questo è un tema sempre spinoso probabilmente mai approfondito però io credo che la direzione sia poi quella di coniugare anche alcuni aspetti della decrescita con le buone pratiche che come come etifor si portano avanti allora il tema della decrescita è un tema sì è un tema la parola un po spinosa però di fatto la crescita verde non esiste cioè gli studi scientifici dimostrano che una crescita sostenibile quindi l'idea di più posti lavoro più pagati più economia più pil e parallelamente una riduzione degli impatti ambientali non funziona pensa l'esempio lampante sono i voli prima i voli erano costosissimi inefficienti accessibili solo a poche persone poi tutti ci siamo abituati con ryanair e compagnia bella a viaggiare a 20 30 50 100 euro e hanno viaggiato molte più persone di prima risultato totale il settore della aviazione aumentato drasticamente gli impatti adesso col covid sono abbassati poi vediamo cosa succederà però di fatto la crescita verde è messa in grande discussione bisogna dare valore non tanto la crescita finanziaria economica quanto hai ma alla partecipazione alle persone alle condivisioni che è un modo di crescere senza andare a consumare e tu prima tra le cose che dicevi prima c'è una che mi ha colpito che era quella dei processi partecipativi l'hai citata presentando edifor l'hai citata per per cortina non si possono prendere decisioni se non vengono condivise con la comunità il tema della democrazia partecipata è uno dei temi che in realtà viene considerato sempre collaterale quando si parla di lotta al cambiamento climatico ma io credo che sia centrale come si può la domanda era come si può costruire una consapevolezza anche su questo che poi una consapevolezza estremamente politica allora bisogna fare bisogna fare un po un lavaggio mentale noi l'abbiamo fatto in etifor abbiamo smatti a creare insieme con tutto lo staff una realtà dove non c'è qualcuno che decide le decisioni sono condivise e non c'è l'imprenditore ma c'è quello che in inglese si dice intrapreneurship intrapreneurship quindi la singola persona è intraprendente imprenditore ok quindi ti piace fare una cosa in azienda ci tieni prendi decisioni su quella e le decisioni vengono condivise e si cerca il consenso ok questa modalità e la modalità che poi portiamo all'esterno tanto che abbiamo una persona che è specializzata nel far questo e c'ha proprio un titolo si chiama good vibe manager il manager delle buone vibrazioni lui arriva e ti mette le giuste vibrazioni per fare le decisioni nel modo corretto che poi fa parte un po di della teoria del cambiamento che comunque è un tema diventato anche abbastanza cool ultimamente e stiamo andando verso l'ultima parte della della chiacchierata ci sarebbero tanti spunti tante cose che che vorrei approfondire con te ce n'è una in particolare abbiamo parlato di recovery found di di un di una crescita green che non è possibile purtroppo si sta verificando quello che un po si temeva da tempo quel green washing green washing è un termine diventato ormai ridondante però un termine molto semplice perché ci spiega una situazione una condizione ci spiega il fatto che chi in questi anni è stato il produttore della crisi climatica adesso si sta riciclando come colui che risolvere soluzioni e poi prende soldi per farlo questo purtroppo a volte è partito anche parlo penso ad eni dalla relazione che ha avuto nella nelle università nella ricerca pubblica e questa è una grande contraddizione e purtroppo riguarda anche l'università di padova e come possiamo risolverla e come possiamo ragionare con una prospettiva diversa è chiaro che io faccio un inciso noi l'enni l'abbiamo bloccata siamo andati a porto marghera abbiamo fatto sulla mia la mia sinistra vedete un cartello quando abbiamo occupato l'enni a porto marghera però è chiaro che non c'è solo quello non può bastare sicuramente eni come moltissime altre aziende legate ai combustibili fossili possono probabilmente cercare di cambiare il colore della maglietta ma poi la sostanza cambia poco fin tanto che non abbiamo dei modelli alternativi perché oggi la maggior parte della gente che è qui sponsorizza eni in maniera involontaria nel senso si ferma si ferma a fare carburante quindi ritorno al concetto di prima dove dobbiamo sia con le nostre decisioni quotidiane sia con la nostra occupazione fisica sia con i nostri voti alle elezioni scegliere realtà che non saprei chi votare le elezioni in questo momento che ci fa realmente una come dire che realmente prende una posizione contro eni quantomeno in questo paese o comunque a favore di alcuni modelli che smettono di staccano la spina perché se quella spina non si stacca se da se passi a fare idrogeno con le fonti fossili non cambia nulla e questa è una questione è una questione sicuramente spinosa è una questione che probabilmente diventerà anzi è già diventata tema di dibattito pubblico tra l'altro eni sappiamo che è anche sotto processo per la maxi tangente sappiamo quello che ha fatto in nigeria insieme alla sua gemella shell ma sappiamo anche quello che fa in basilicata ad esempio non occorre andare troppo lontano per vedere gli effetti dell'estrattivismo gli effetti della devastazione continuiamo un po' su questi aspetti sempre rispetto al piano recovery tu prima dicevi una cosa molto giusta che è una cosa che noi la diciamo sempre anzi è anche un nostro slogan la giustizia climatica non può andare separata dalla giustizia sociale secondo te ci saranno spazi in questo contesto per provare anche ad attuare delle politiche che siano politiche di integrazione sociale vera? allora il mondo è sostanzialmente diviso in due una parte ricchissima che consuma più risorse di quello che ha realmente necessità e una parte povera che non riesce a raggiungere le necessità primarie e quindi fa delle scelte quotidiane drastiche basti pensare che l'Africa che non ha poche foreste il 90% degli alberi che vengono tagliati sono per cucinare per scaldare per sterilizzare l'acqua cioè tagliano alberi per li bruciano per sterilizzarsi l'acqua quotidiana ogni singola famiglia ora è chiaro che a quelle persone tu non puoi dire non farlo gli devi dare un'alternativa che è su una base di tipo economico e quella base economica dove vai a pescarla se non in chi sperpera quindi ecco che c'è anche un libro bellissimo che si chiama se non ricordo male la teoria della ciambella che è Donuts Economics ok? l'economia della ciambella che ti dice non possiamo solo andare dai ricchi e dirgli diventa più green come non possiamo andare solamente dai poveri e diventare più green i due devono unirsi devono avere azioni simultanee altrimenti non si riesce a restare all'interno di un sistema che purtroppo per fortuna è finito guarda un dato bellissimo è questo quanti chilometri abbiamo fatto per arrivare qui io sono arrivato in bici dal centro di Padova saranno sei chilometri ora lo spazio di terra che ci separa dai nostri piedi alla fine dell'aria respirabile sono sei chilometri è niente quindi a rovinarlo ci mettiamo niente è pochissima aria sopra di noi c'è pochissima aria pochissima aria respirabile noi siamo abituati a fare decine di centinaia migliaia di chilometri all'anno ma sono solo sei chilometri di aria sopra le nostre teste e viviamo solo su quella il tempo è realmente poco per produrre questi cambiamenti per produrli in positivo si parla di 2030 2025 che siamo fra quattro anni se ci pensiamo è davvero siamo davvero dentro la questione e questo questa pandemia ce lo sta dicendo noi viviamo già dentro una catastrofe climatica e il punto vero è capire come possiamo in qualche modo anzi in tanti modi probabilmente contrastarla e progetti di Etifor per il presente e per il futuro allora diciamo ci occupiamo del territorio che viviamo perché secondo noi è il punto di partenza è inutile andare a professare bene in giro per il mondo se prima non ti prendi cura del territorio abbiamo un progetto bellissimo che da Bassano del Grappa quindi dall'inizio diciamo delle Alpi arriva fino a Padova che si chiama Parco Fiume Brenta un movimento dal basso non siamo andati dalla politica a chiedere di creare l'ennesimo parco poltronaro fatto di poltrone ok siamo andati dalle persone dalle associazioni dagli agricoltori a chiedere di migliorare la qualità dell'acqua l'acqua che da da bere al 30% del Veneto l'ultima acqua è rimasta in Tonsa quindi che puoi prendere e bere a Padova si beve quell'acqua che arriva dalla zona Bassano che arriva dalla zona Dueville quindi ecco che lì abbiamo un progetto bellissimo che è di recupero del fiume in chiave acqua e biodiversità e questo ci sta impegnando localmente giornalmente sul territorio che viviamo parallelamente abbiamo tantissimi cittadini e imprese venete italiane mondiali che seriamente hanno preso l'impegno della lotta della crisi climatica e stanno mettendo in discussione il loro modello di sviluppo ed ecco che li aiutiamo a calcolare i loro impatti un po' come abbiamo fatto con lo Sherwood a ridurli e poi a prendersi cura di aree naturali in giro per il mondo e questo è bellissimo se ci pensi a una vicinanza tra popoli no? mi portiamo l'Etifor all'ilva di Taranto quello sarebbe molto challenging molto difficile come inizio non avrei non avrei alcun dubbio non ha la stessa governance dello Sherwood o magari di alcune imprese con cui vi relazionate e noi stiamo andando verso le conclusioni io come vi dicevo devo annunciare anche un progetto che abbiamo proprio sui temi di un altro modello di turismo un progetto che lanzeremo a partire da settembre con Radio Sherwood ed è l'audio racconto di alcuni viaggi fatti in montagna che ci racconteranno innanzitutto una nuova idea di turismo un altro modo di usare utilizzare di fruire vivere vivere la montagna ma soprattutto ci racconteranno di un'altra idea di vita che questo è quello che è di cui abbiamo estremamente bisogno era un'interazione che volevo fare con te ma non fa niente no volevo interagire con te su questa cosa i miei compagni stanno ridendo e speriamo che magari Etifor possa aiutarci anche a far venire fuori questo progetto perché noi ci teniamo tanto assolutamente uno spunto interessante poi il racco non gli piace probabilmente non gli piace non gli piace molto ma in realtà ascolterai anche perché poi dopo l'idea di confrontarci su sui racconti audio è un'idea accattivante e ci lasciamo con un'ultima battuta come possiamo migliorare questo Sherwood change for climate justice beh innanzitutto divertendoci molto allo Sherwood perché già vivendo qui io non ho mai visto un festival con un sistema di riciclata come questo un sistema no plastic tutto quello che si usa è PLA quindi bioplastica naturale quindi già vivere eventi di questo tipo scegliere eventi di questo tipo e non faccio nomi rispetto a eventi che hanno dei modelli molto diversi è già una gran scelta beh quasi tutti esatto quasi tutti anche perché credo che le scingole scelte personali quelle che dicevamo prima avere un approccio al cibo più responsabile ok avere un approccio alla mobilità più responsabile è proprio in questi eventi che te li racconti ed è giusto è giusto così io ringrazio Lucio ricordo che alla 21 e 30 in second stage ci sarà lo spettacolo cosa si muove di spettacolo di Guido Vidale Giulia Vidale Giulia Vidale Giulia Vidale perché sembrava Guido leggendolo da qua chiedo scusa Giulia sarà con noi magari se vuoi venire a dire due cose per non so dove è Giulia no non c'è non c'è ancora e quindi ci vedremo questo spettacolo e ringrazio ancora Lucio e ricordiamo anche che poi la lotta per la via al cambiamento passa per comportamenti responsabili passa per comportamenti un po' più irresponsabili nel senso buono del termine come quelli che abbiamo avuto a Venezia sabato scorso perché è anche giusto poi portare questa voce quando ci sono vertici come quello del G20 quando ci saranno vertici come quello di Napoli del G20 sull'ambiente a Napoli il prossimo 22 luglio e io credo che sia importante appunto unire queste due cose lotta lotta anche in piazza e consapevolezza grazie mille grazie a chi ci ascolta qui e grazie a chi ci ascolta in radio buona serata a tutti e tutte grazie a tutti